Buongiorno dalla Maker Faire European Edition, siamo a Roma, seconda giornata, sabato 15 ottobre. Siamo allo stand Sanofi Genzyme, tra poco ci arriveremo, padiglione 6, qui ci sono le scienze della vita, l'idea del futuro già presente legato alla salute, all'innovazione nel campo della salute. Guardate anche quanta gente nei vari stand legati ai finalisti del contest Make2Care promosso da Sanofi Genzyme insieme ad Aster e in Nova Camera, insieme ovviamente alla Maker Faire. Tanti progetti di innovazione legati ai centri di ricerca, ai centri di sviluppo, ai laboratori. Noi oggi raccontiamo anche quello che accade nello stand qui di Sanofi Genzyme dove c'è un social wall che si sta riempendo, dove stiamo ascoltando tanti makers e innovatori finalisti. E c'è lì proprio una persona che ci aspetta. Prima di raggiungerla però guardate, ci sono i visitatori della Maker Faire che scrivono i messaggi sul social wall e raccontano quello che è per loro la formula per innovare nel campo della salute. Tanti messaggi, qualche disegno e l'idea comunque di mettersi in connessione. Questo è il social wall dello stand Sanofi Genzyme dalla Maker Faire Roma European Edition. Raggiungo invece un giovane, 29enne, makers, innovatore, Luca Randazzo di Siciliano, Doc. Per oggi un po' lontano perché si trova... Cambio il microfono. Eccoci qui, Luca Randazzo. Di fatto tu vivi oggi in Svizzera. Esatto. Hai tra l'altro un percorso anche di ricerca in Svizzera? Sì, ad oggi sto realizzando il mio dottorato di ricerca in Svizzera, dove sto lavorando proprio allo sviluppo di dispositivi assistivi per riabilitazione e assistenza e alle interfacce uomo-macchina, ovvero la decodifica delle intenzioni di muoversi attraverso elettroencefalogramma, proprio a fini riabilitativi. A fini riabilitativi, a fini medicali, tra l'altro hai dei dispositivi collegati. Questo è il tuo progetto U-Botics. Ci racconti cos'è U-Botics, uno dei 13 finalisti del contest Make to Care di Sanofi Genzyme. U-Botics è, come vedete, un esoscheletro, ovvero un dispositivo robotico completamente indossabile. L'idea di base è quella di avere un dispositivo che permetta la riabilitazione e assistenza direttamente a casa del paziente, ovvero quando molte volte, appunto, le persone disabili che hanno bisogno di riabilitazione motoria, essendo dipendenti, non possono andare continuamente dal fisioterapista o all'interno degli ospedali per accedere a cure riabilitative. L'obiettivo di questo progetto era proprio quello di avere un dispositivo che tu potessi portare direttamente a casa per fare una riabilitazione quanto più continuativa e intensiva possibile. Al fine di realizzarlo in maniera quanto più personalizzabile alle esigenze degli utenti, lo abbiamo realizzato interamente con stampanti 3D. Ciò significa che, appunto, è assolutamente personalizzabile alle esigenze dell'utente finale, che sia un bimbo, un adulto o una persona anziana, potremmo stampare un esoscheletro su misura. E appunto si potrebbe preimpostare dei programmi di riabilitazioni personalizzati, cosicché il fisioterapista registra questi programmi e il paziente può ripeterli a casa tutte le volte che è necessario. Quindi il rapporto uomo-macchina che riesce a risolvere anche un tema di sostenibilità, anche di distanza per andare a fare cure riabilitative, abbatte anche costi e tempi? Assolutamente. Uno degli obiettivi principali era quello di abbattere i propri costi relativi alla riabilitazione, sia per le famiglie che non possono costantemente andare in clinica o in ospedale, sia per l'utente finale che può portare questo dispositivo a casa, sia per l'healthcare in generale, perché questi dispositivi ad oggi esistono, ma costano nell'ordine dei 50.000 euro. Appunto realizzandolo attraverso queste tecnologie riusciamo ad abbattere moltissimi costi. Di quanto? Per aver un'idea. Ma adesso noi siamo in fase prototipale e con meno di 1.500 euro riusciamo a realizzare un prototipo del genere, che appunto ha le stesse performance di quei dispositivi e allo stesso tempo possiamo permetterci una personalizzazione molto avanzata in funzione delle esigenze dell'utente. Quindi è importante dire che noi non vogliamo sostituire il fisioterapista perché dicevi appunto il rapporto uomo-macchina per risolvere il problema. Sicuramente non vogliamo sostituire il fisioterapista perché appunto la dimensione umana è fondamentale all'interno della riabilitazione, ma sarebbe una sorta di ausilio in più che avrebbe il paziente a casa per fare questi esercizi in maniera intensiva e continuativa anche a casa. Di fatto riesci ad abbattere in fase prototipale e personalizzare anche un esoscheletro, ora bisogna capire la serialità di un prodotto di questo tipo. Assolutamente. Come ti sei avvicinato? In pochi secondi, come ti sei avvicinato? Perché hai scelto di sperimentarti su un esoscheletro? Io ho studiato ingegneria e quando ho finito il mio master mi sono reso conto appunto che mi sarebbe piaciuto molto spendere le mie capacità da ingegnere per fare qualcosa che potesse risolvere dei problemi e quindi ho deciso appunto di avvicinarmi a questo campo anche per esperienza personale, ho visto che questi dispositivi sono molto molto costosi e quindi restano all'interno delle cliniche e quindi mi interessava riuscire a sviluppare un prodotto che riuscisse ad arrivare invece direttamente a casa dei pazienti. Grazie a lui e Luca Randazzo, uno dei 13 finalisti di Make2Care con Ubotics. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.